Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della EasyGradCraft Yes, cadiamo giù, pim Nello scorso episodio abbiamo fatto un pochettino la botania, me la sono studiata un pochettino di più Eccola qui Praticamente non c'erano problemi di mana Era semplicemente che ci mettevano 3 anni per caricare il mana pool, quindi ero scemo io Comunque ragazzi, se ci sto mettendo troppo a registrare le EasyGradCraft è colpa di che ci sono tanti altri giochi C'è Airstone, c'è stato il Romics, ci sarà tanti altri giochi su un bacello Quindi, innanzitutto, facciamo subito qualche altra quest, volevo fare questa qui in unicaltar E finalmente lo posso fare con un enderpearl Perché non lo posso fare con l'enderpearl? Mi serve il mana pool, eccolo qua, porca vacca Ma questo era pieno di mana Olè Niente Devo aspettare che mi carica il mana adesso Andiamo un po' Sì, devo aspettare Nel frattempo che aspettiamo Un zam zam Poso un po' di roba Uno e due E questo non ho ancora capito che cacchio serve Sleeping bag Ah, penso che sia quello per dormire Allora, facciamo intanto altre quest Se quella non la posso fare potrei fare questa Devo fare gli altar Allora Altar Eccolo qua Il Rowan Wood Porca vacca Mi manca il Rowan Wood Dovrebbe bastare questo Vediamo un po' Eccolo qua Sturdy Case Allora Poi L'estima di Innovation Mi sa che l'ho rubato da qualche parte Non mi ricordo Un tank E' un coq Ora Il tank Si faceva con il vetro Vero? Con il vetro normale si può fare Non mi ricordo Sì Perfetto Perfetto Ah, ok Perfetto Mi sto a un broia Mi sto Che succede? Dammi qua Perché mi serve Un coq oven brick Un coq oven brick Come si faceva? Come si faceva? Si faceva così Con questo Andiamo un po' Mo' io Provo A farlo così Vediamo un po' se Faccio schifo Io mi ricordo Mamma mia Basta Cioè Cioè io che mi ricordo Ste cose E proprio Cioè mettetemi proprio In galera Cioè in galera Proprio voglio andare Fammi ne tanti E così poi Mi faccio la Forma Ah, ok Scusa Non lo faccio più Giorno Che mi manca? Ah, la sabbia La sabbia Mamma mia Ma la smetti Di trocarti E Singar Vero? Buono A posto Non c'ho più i materiali Perfetto Due ore per fare sto coso Però dettagli Io non mi ricordo Quanti ne servivano Che falli Lo sai Per fare la fornace Provo a farla Da qualche parte Non la posso buttare Sta cosa Non c'ho più spazio Io qua Mi devo allargare Mi devo Vabbè poi la faccio Non c'ho spazio Non so Cazzo Mettela Me la metto sul tetto Basta Me la metto Sul tetto Vediamo un po' se bastano I materiali Allora Se non sbaglio Era da tre E già non me bastano più Perfetto Me ne devo fa' altri Devo farm Sabbia E Gra No Che cacchio sto di grave La clay Sasha clay Allora Clamiamo Clamiamo La Quest Dio mi mi sto a ombrogliare oggi Che c'ho Sono dislessico Prendo questa Due portable tank Che non ci faccio una sega Questo è Greater Pozioni a casa Un'altra volta Ma io non ci posso credere Non so più dove metterli Guarda Non mi c'entrano più Devo fa' altri De questi scaffali Vabbè butto qua va Che c'ho la La bag Pozze La La bag Pozze Allora Questa è stata fatta Questa È già fatta Che era la tinker Tranquillo Fai tutto te Oggetti a caso Blaze road Un altro po' Non so più dove metterla Sta roba Aspetta Aspetta C'era una quest Che si faceva Con quello Vero Blaze No I magma cube Mi servono I magma cube I magma cube Come si facevano Con le slime Vero Eh ma c'è non solo una Niente 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 Via Butta tutto Butta tutto Sempre dei mob Inksack Sempre di qua Nether quartz Che è sempre utile E andiamo avanti Questa è roba Della Della tinker Quindi butto qua Via Allora Prua Porca pacchetta Age of industries Allora io vedo tante cose qui Che io non ho mai visto in vita mia Ma mai mai eh Solid Ho sentito un enderman Non ce ne sono Queste Proprio i colpi Solid Fuel and Boiler Low Bruce and Boiler Strongbox La cache Un portable tank Un portable tank Che cacchio ho cliccato Ok Una strongbox Vediamo come si fa una strongbox Strongbox Era l'hardened Sì era l'hardened No Allora una chest E del tin Ce l'ha del tin qua Tin Sì che ce l'ho Vai Vieni qui Vieni a me proprio Vieni a me Chest al volo Sì ho preso il coke Buongiorno Buongiorno a te Buongiorno a me Buongiorno a chi Non c'è La volevi normale o strong? Normale Come si fa la cache? Ma poi che serve? Cioè La strongbox Non so che serve Ma la cache Scrive così? No Cache Cache La cache Ashwood Ebonywood Capocbook E il tin Dammi un oak Grazie Thank you Very much Proprio 1,2,3 e 4 E ho fatto anche la cache Però io adesso Prima di Fare la quest Che serve sto coso? Capacity mille Ma che cacchio è? A parte scusami ma Che fine ha fatto La mia strongbox Scusami Ah ma se la fotti E me la ridà Ah Ok L'importante è che Ah Ardenes Cache A che serve Strongbox Vabbè Se qualcuno Mi dice a che serve Sta roba Io metto pure Questo qua vicino Giusto perché Fa carini Qualcuno me lo dice Perché io non lo so Non lo so Chiederò informazioni Che vabbè Ah Che attrezzi in ferro Certo Mi Mi ci pulisco il culo Comunque Grazie Tra un po' Non saprò più Dove metterla sta roba Non la saprò Proprio più Allora Pure questa è fatta Io direi da andare avanti Forge of Felfire Sea Red Tank Non me vado a prenderlo là Perché poi tu a me Me lo fotti E no E no 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 Sea Red Sea Red Tank No Come cacchio si chiamava Come si chiamava C'ho la peporia a breve termine Come si chiamava Porca vacca eh Sea Red Tank Tank Allora Un Un vetro Un votro Thank you Grazie del votro Thank you Se lo sbaglio dovrebbe sta qua Sea Red Brick E dov'è la La crafting Eccola E Così Ecco il cacchio Dove ho fatto tutto io a mano Eh Cioè Proprio Sfaticati eh Ce la fai Grazie Allora Prendo questa Claim Com'è? Creator Bim Good Good Questi me servono Mi servivano per la Blood Magic Ma questi Un po' di meno Non so che faccio Per ora No Lo so Possiamo tutto Ma si pulitiamo Atti qua Ma che me frega Ma Che me frega Me devo Fa poi un impiantuccio Con Con questa A proposito Ma si è caricato No Un po' No No Un po' se basta Per la Ender Pearl Ender Pearl Che mi dici? No Devo aspettare Ti odio Ti odio Ti odio Ti odio Botanicula Ti odio Botanicula Allora Andiamo avanti E non mi aprire questo Aprimi quest'altro Grazie Qualcos'altro Tip facile Così a caso Crafty Builder Una Wrench Come si fa La Wrench Perché L'ho vista È strana Quella Wrench È stranissima Non l'ho mai vista Uno Stone Gear Madonna Mamma mia Difficile Cioè Dico proprio Difficile Rotellina E Questo qua E Mi serve il ferro No Sto facendo Una cazzata Esatto Esatto Stavo a fare L'ingranaggio De ferro Perché Ste cose Perché E Ma dal Submit Climber Che mi ha dato Flux infuse Domni Wrench Ah Va corrente Che figata E Se può mettere Che Lo Basta Via cacciavite Non mi serve Niente È più carina Quella Guardala Guardala Quanto è bella È bellissimo Oh Mio Dio Che Cacchio Ho trovato Fermi Allora Toglimi tutta Sta robaccia Sta robaccia Via Via Non mi servi Baa Basta Sono diventato Overpower Oh Sto morendo Mangiamo Ah Ma adesso Le cose Cambiano Ehi tu Torre lì giù Nel prossimo episodio Vengo letto E faccio Un culo Largo Quanto una cavalla Faccio Vedere io Cazzo Faccio pure L'arco Ho le frecce Sì Carino È bello Più nove Di attacco No Fa pochi danni Preferisco La draconic La draconic Ne fa Ne fa Più Quaranta D'attacco Più venti per cento Mob e alt Che vuol dire Che succhia vita Boh Non lo so Ditemelo voi nei commenti Ragazzi Questa cosa non la so Non la so Non la so So solo che quella spada È overpower Qua non ci posso più mettere niente È tutto pieno Vedo fare un'altra cassa Vedo fare un'altra cassa Devo ampliare il mio storage Perché così non si può andare avanti Andiamo a po' se c'è qualcos'altro di veloce da fare E concludo la puntata Allumite ingot Ball of moss Il ball of moss è una cazzata Ball of moss Se non sbaglio Eccolo Ce l'ho Ci ho fatto il potenziamento del piccone Dove cacchio l'hai preso L'allumite ingot Io non ce l'ho Oh Com'è possibile Vabbè a me A me sembra che ste cazzo di queste Sono bugate Poi non lo so voi Epic Ragazzi Ho La bag Epic Finiamo In bellezza proprio Vieni qui Chocobo Assisti anche tu Alla bellezza dell'epicità Vieni Bim Ok Non voglio commentare La tristezza Ma se vabbè Però è grosso Aspetta c'è buttuta sta roba Tier 3 Angel block Ma che Basta Basta La tristezza Ma questa che è È una crafting portatile Carina No no Aspetta aspetta Tristezza ok Fino a un certo punto Per gli angel block E la bag Ma Questa è caruccia Ce l'avevo già Sì però questa è È tier 3 Questa è tier 1 Questa è schifo Questa è bella Questa è schifo Schifo Vabbè ragazzi Io ho fatto un po' di quest Sono andato un po' avanti Cercherò di fare Più episodi Della Isengard Tempo permettendo E Macello E altro E intanto abbiamo fatto Qualc'altra quest Io Cercherò di andare più veloci Questa che cos'è Zombie Ead Creeper Ead Aspettate Aspettate Fermi 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 Questa Questa la voglio fare Fermi Fermi Ce l'ho una Una testa dello scheletro Sì che ce l'ho Fermi tutti Mano al sub Reward Eeeh Sapete perché l'ho voluta fare Per questo motivo Io adesso Ho più cuori Di un cinese Ho più cuori di un cinese E un'altra bag epic Fermi Apro subito Non l'avrei mai voluto fare Basta No no basta Sta puntata è triste Con i reward Triste Triste Che ci faccio Con sta roba Vabbè ragazzi Noi ci vediamo Nel prossimo episodio Della Isengard Craft Chocobo Saluta Lascia perdere Sei triste pure tu Ciao Ciao